Noi come città di Genova stiamo lavorando sui progetti europei, in particolare su tutti i tipi di programma strutturale e diretto. L'obiettivo è quello nei prossimi anni di sistematizzare dei processi organizzativi che ci permettano di migliorare le nostre performance, sia in termini di efficienza e quindi di acquisizione di fondi, sia in termini di efficacia, vale a dire di cercare di ridurre il gap tra progetti presentati e progetti finanziati. Questo nostro percorso viene realizzato attraverso un processo di coordinamento sulla progettazione europea e di affiancamento sulle tematiche di progettazione europea su tutte le varie direzioni e dipartimenti che si trovano nel Comune di Genova. Sostanzialmente la nostra organizzazione è composta da 12 persone, ci avvaliamo poi di alcuni soggetti esperti esterni e anche con la collaborazione di alcuni soggetti universitari e in particolare ci terrei a citare un ruolo di formazione di giovani soggetti perché abbiamo attivato ormai da due anni degli stage con l'università e questo ha dato dei buonissimi risultati, devo dire.